Io ho un personaggio Che amo E che potete capire Perché lo amo Ed è Terry Secondo voi perché amo Terry? Secondo voi perché amo Terry? Secondo voi Perché amo Terry? Secondo voi Questa sera devo spaccare Cristo Perché lui mi ha spaccato su Mario Kart Perché amo Terry? Perché? Come si faceva a fare il taunt? Non mi ricordo Beh sì perché insomma Beh insomma perché Sì perché insomma Sì è ovviamente È una Sì perché lui stesso Sembra una Jojo Reve Sì avete ragione Esattamente Esattamente Allora Fatemi ripassare un pochino Come si gioca Terry Che è da un po' che non gioco Allora Ok Ok No Mi devo ricordare Perché ci ho perso un pochino la mano Allora Così Poi abbiamo questo Poi abbiamo Questo Poi abbiamo Quello Ok Poi abbiamo la combo Che fa tipo così Schipiti No Ok Questo è così Schipiti Schipiti Bibiti Bibiti Così Oppure possiamo fare addirittura Tipo Buonasera Grazie Riccio Un attimo Sì sono Shrek 2077 È un problema Allora Questa è la mia preferita È una delle mie preferite Ma Potrei fare Persino Questa è molto fica Che non mi ricordo Come si fa però Allora Oggi sfidiamo Cristo su Smash Ora lo stiamo La forte E l'ulti di Terry Allora Sì è forte Ma la cosa più figa Di Terry È Una cosa che io Sapevo fare Che adesso vi faccio vedere Come si fa a cambiare Praticamente Quando Terry arriva a 100 Può fare questo Me lo ricordo come si fa Perfetto Allora Ma potremmo giocare con te su Smash Allora Io lo propongo a Cristo Solo che vorrei fare Tipo io e Cristo Contro di voi Si può fare Secondo voi È molto fica Questa mossa Effettivamente È una combo È una combo Non è un tasto Praticamente devi fare Giù Destra Giù Destra E premere B Quindi fai tipo così Quindi è un pochino È un pochino più difficile Sì L'importante è che mi mettete in squadra Perfetto Allora Io Allora Penso che utilizzerò lui Perché è uno di quelli Che so usare Meglio E poi E poi Vorrei cambiare personaggio Si può cambiare personaggio? Devo uscire Ok Cioè È arrivato Cristo Ma si è mutato Così Probabilmente Stai iniziando live Tranquillo Mi spacco la faccia Shut up Allora E poi Allora Io ho quelli con cui Sono più confident Sì Lui è Terry Lui è Terry Quelli con cui Sono più confident Sono Probabilmente Kazuya Sephiroth Terry Un po' Ganondorf Capitan Falcon Sicuramente E poi Donkey Kong Perché è stupido Sai dire Fino a quando sei in live Di solito siamo Fino alle 10 Di solito Però potremmo stare di più Se i match sono belli Ma usa Sora Che ha le hitbox rot Mi fa cacare Sora Ve lo giuro Mi fa cacare Tra l'altro Ho anche Il creatore qua Ho fatto il personaggio Del creatore Link bambino on top Confident con Kazuya Non l'ho capita Steve sarebbe stato Bellissimo Impararlo a giocare Perché Veramente È un personaggio Fichissimo Solo che Nah Niente Non c'è stato Cavolo Usa le waifu Fallo per me Non ci penso Neanche Piblo No non ho mai provato Pacman In realtà Sicuramente Questo è uno Dei personaggi Più stupidi da giocare Il mio main è Ike Madonna Se potresti bannare Ganondorf Perché è troppo speciale Con la Cioè questo È proprio stupido Sephiroth È proprio stupido Cioè c'ha una spada Incredibilmente Incredibilmente lunga Sto in serio Shut the fuck up Bro Non è vero Guarda che ho sfidato Tearless Raptor E abbiamo fatto Pari Allora potrei Potrei farcela Secondo me Allora sono confident Per questo Comunque grazie ai 100 team Sono confident Con Questi personaggi E su Smash Perché Cristo mi ha confidato Che in realtà Non è tutta sta cosa Su Smash Ciao Sedia Vedremo mai la collab Con lo spirito di Bob Ross Su Photoshop Credo sia morto Non credo di poter Summonare lo spirito Sì raga Sto Mi sto un attimo Sto un attimo Un attimo Vedendo come 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 fare Vediamo se mi ricordo I tasti Greeningel Hai mai provato Sì ma Per me fa troppo Poco danno Quindi Cioè questo Per me È stupidissimo Poi In realtà Ci sono delle combo Che io non so fare Perché non ho approfondito Troppo Kazuya Tipo Come Come Terry Quindi Boh Mi dovrò Mi dovrò un po' Arrangiare Questo è molto facile Sì pure Lucas Sarebbe fichissimo Da imparare a giocare Però C'ho troppa Poco pazienza E troppo poco tempo Soprattutto Secondo me Cloud è sgravato Pure Raga Spammino di sedia Fallito Ma shut up Dimmi Grazie dei 100 Però Se non sbaglio Lui ha 44 Mos Eh io Veramente Vorrei un personaggio Facile Potrei fare Comunque con Ike Oppure con Capitan Falcon Pimpato Tipo no Io so che Questa skin È più forte Kazuya se giochi Ho almeno giocato Una volta a Tekken E lo sai usare E infatti Non lo so giocare Perché non ho giocato A Tekken Appunto Allora Cristo credo Stia andando in live Prova Jotaro Il mio main Ma è anche il mio main È anche il mio main MC Grazie mille del Prime Grazie dei dieci mesi Allora Sì Ah è King K. Rool King K. Rool In realtà È un altro Di quelli Che so giocare Sedi è un Too easy Con Meta Knight Infatti Se perdo Metto Meta Knight Ve lo giuro Allora Cioè Questo Questo personaggio È troppo stupido Perché Cioè È veramente È veramente Troppo È troppo stupido È troppo È troppo È troppo Cioè Mena mazzate È veramente Indistruttibile Da spostare E tira certi colpi Che madonna Santa Sedia voglio arrivare A 100k Così mi regali La sub E farebbe molto ridere Lo farebbe davvero Molto ridere Eh Bayonetta La sai usare Sì Però Toglie Veramente poco Per i miei gusti Buonasera Sedia Ti consiglio Mr. Game Watch Come più veloce e tattico Il personaggio Il mio main No Mr. Game Watch Non l'ho mai Sopportato Veramente Allora Sì Io in realtà Vorrei proporre A Cristo Di fare 1v1 E poi fare Partite contro la chat Cioè Cioè Noi due Contro la chat Sarebbe molto bello E sarebbe molto divertente Siete Hai mai provato Sans? No No Non l'ho mai provato Allora Proviamo Proviamo A fare qualcosa Con In realtà Non so se andare sicuro Non so se vado sicuro Con Terry E Ganondorf Ganondorf Sarebbe bellissimo Si vede che sei Novellino King K. Rullo È un bel po' lento Lo so Lo so Lo so bene Cioè I personaggi veloci Non mi piacciono Mi piacciono Questi personaggi Cioè Gli ho tolto Tutta la vita Ed è bellissima Mamma mia Che meraviglia Però ti potresti Fare il personaggio Di Sans Se hai la sua skin Lo sai che Non ce l'ho Non ti consiglio Di fare vs la chat I server Nintendo Sono rottissimi Vabbè Noi proviamo Se finisce come Mario Kart Veramente Mi spacco Sul serio Ti consiglierei Di provare Daren Per la forza assurda Gli unici piccoli problemi Sono la velocità E complessità Della combo Vi rendete conto Che qualsiasi cosa Sia complessa E tolga poco Non mi piace Prova Steve È un cane Se lo sai usare Lo so Lo so Infatti lo vorrei utilizzare Ma sono troppo pippa Quindi no Meglio di no Daren Ho giocato anche Tanto Korrin Credo che questi Io ve li ho detti Più o meno tutti Quelli che ho giocato Niente di troppo Anche un po' Donkey Kong A me piacciono I personaggi femminili Particolari Shut up Shut up Ombrellino Shut up Shut up Allora Daren King K. Rool Fuffi Tra l'altro Io manderei Comincerei col mandare Anche la stream squad A Cristo Aggiungo un canale Cristo Is purple Perfetto Così gli arriva La stream squad E intanto noi lo aspettiamo Provando altra roba Ike pure Fichissimo Shut up Tu ombrellino Shake L'hai usato Io mi sono fatto fare Il culo Da shake Online Ho visto quanto è potente L'ho provato E ho detto Come minchia Hanno fatto A usare questo personaggio Ma poi perché sono Così competitivi Su smash Io non riesco A capire Il fatto è che Io ho provato A fare A fare Online di smash E sono una pippa Mi ha fatto rendere conto Di quanto io in realtà Sia una pippa Ma avvocato Buonasera Grazie dei sette mesi Bro Bro Ma bentornato Ma da quanto tempo Cambia skin E mettilo adulto Allora lui è forte Lui è forte Ma Link può fare i pari Su smash Non ne ho la minima idea Eh pico dai Hai ragione Sei una pippa Shut up Questo però sarebbe Un po' un cheat Giocarlo Secondo me Perché basta Che lo spammo Un po' Se Cristo non lo sa Non lo sa evitare Lo meno Ora il problema È che se Cristo Sa giocare Io ho perso Perché io Non so giocare Cioè non gioco Da tanto Ne mi sono allenato Abbastanza Vedete è corta Di essere una pippa Noi l'abbiamo scoperto Da un anno Shut up Dime shut up Perché funziona Sempre così Ok Mi ricordo Come si usa Mi ricordo Più o meno Tu perdi Anche se lui Non sa giocare Shut up Can you shut up Eh Can you shut up Allora facciamo Ok perfetto Cristo pure in live Penso che tra poco Ci sentiamo Perfetto Io comincio a fare Così Così lo sento Nel caso entra Fantastico Steve è rotto Sì ma è difficile Da usare Steve Per usarlo bene Senti Ti sei accorto Di come ogni tua frase Può diventare un insulto Alla tua persona Innanzitutto Io sono una sedia Quindi Ti chiederei Ti chiederei Di essere rispettoso Per il mio genere Ma tu rispondi Shut up A tutto quello Che diciamo Mette le mot Mettete le mot Shut up Esiste già le mot Shut up Quindi shut up Ah questo era Così No Era Così Perfetto Proviamo con la CPU Si può Si può avviare Perfetto Resettiamo Nice Ma non mi spammate Shut up Non vi azzardate Oh shit Ah è vero Io mi dimentico Sempre di usare La cosa Di usare La presa E di usare Questo Che sono Fondamentali Praticamente Ole Basta wolf Non ti azzardare A menare Super Mario Ok Ti consiglio Kirby Grazie Redlock Davvero Innanzitutto Buonasera Però la CPU Livello 3 Fa cacare Alleniamoci Con la CPU Decisamente Troppo Per i miei gusti Ve lo ricordate Quando ho giocato Smash Quello di Shrek E le CPU Mi hanno fatto Il culo Perché io Me lo ricordo Bene Serie mi dispiace Ma abbiamo perso La causa Contro Io Tobi Sì ma Possiamo Possiamo Rilanciare Con un'accusa Per molestie Non so Se hai presente La foto Che c'è Sul mio profilo Di instagram Ole Madonna Sarà difficilissimo Fare content Mentre cerco Di concentrarmi Su questo gioco Ole Secondo voi C'è più livello Novent Fermati Maledizione Ole Mi devo ricordare Come si fanno Le combo Perché altrimenti Sono veramente Troppo Veramente troppo Pippa Contro Contro Cosa Perché Terry È forte Ma è molto più forte Se sai fare Tutte le combo Ole Aspetta Cominciamo Da una Facile Non posso Perdere Contro CPU Per piacere E non muore Tra l'altro Io non ho Il controller Quindi sto Giocando Con i joy Con Quindi Spero 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 Appreziate L'effort È più forte Se sai giocare Ti ringrazio Ole Madonna Quanto è difficile Parlare Mentre giochi a smash Perché Devo Io Il fatto è che Non sono ancora Non ho ancora La memoria muscolare Quindi devo pensare Ai tasti Che sto facendo Bomba Ok Bene Ma non è quella Sì sì È infatti Quello Quello Che sto facendo Solo che Chiamalo joystick Bro No No Madonna Devo vedere Anche come gioca Come gioca Cristo Perché se è aggressivo Pure è un problema Buonasera Oh Signor Cristo Buonasera Ciao Bellissimo Ciao Ciao Allora Innanzitutto Tanti auguri Sei finalmente Maggiorenne E posso finalmente Picchiarti su smash Perché non sei minorenne Possiamo finalmente Fare battute sessuali Senza venire insultati Dalla finanza Oddio santo Eviterei comunque Ciao a tutti Ragazzi Oddio Benvenuti Ciao chat di Cristo Bro ti ho invitato Ti ho inviato la stream squad Grazie Tommy Per i nove mesi Bro abbiamo fatto un bambino Eh Sono geloso Ho fatto un bambino Con Vabbè ha fatto nove mesi È entrata un'intelligenza artificiale Allora Sedi ho iniziato questa trasmissione Cantando La fantastica canzone Che mi è stata richiesta Da Tutto il tempo Che sono stato fuori casa Quindi ho dovuto interrompere Un attimo Per No 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 tranquillo Figurati Figurati lo so che tu hai problemi Con le otto e mezza Non ti preoccupare Lo farò anche domani Tranquilli Quindi ragazzi Oh Bene bene Comunque No no ragazzi Il compleanno di Cristo È stato quando Ieri Era ieri ragazzi Il mio compleanno Troppo tardi Ma grazie dei cinque Ok Bene Abbiamo cominciato la serata Mi saluti il signor Cristo Sì ti saluta Ti saluta Tommy Bugo Grazie mille Delle cinque sub regalate Madonna Grazie Bugo Pro ma come si gioca smash Allora un secondo Possiamo prima parlare Della lore Che è successa due ore a fare Rivalente questa live Allora vai Allora ragazzi È successo una cosa Io ho un account switch Di alto valore Perché ho ben 20 giochi pagati Mamma mia Che gamer Cioè E questo vuol dire Che io ho speso Più di mille euro Solo di giochi Ma cosa Conoscendo i giochi Nintendo Sì Questo cosa Cosa comporta Comporta il fatto Che io comunque Condividevo Adesso Adesso ringrazio Le sapere ragazzi Condividevo Il mio account switch Con Gennaro E lui condivideva Il suo Con il mio Ma recentemente Recentemente Lui ha dato il suo account A un suo amico E io ho dato il mio account A un mio amico Per giocare ad altri giochi E così Mi sono accorto Oggi alle 6 Che non avevo più smash E meno male Che te ne sei accorto Che non avevo più smash Santo Dio Quindi Ho impulsivamente Scritto a 6 Dio Bruno non ho smash Come cazzo facciamo Devo comprarmelo Ma L'edicola è chiusa Quindi non posso Non posso prelevare Non posso fare questo Allora ragazzi Grazie mille A Instant Gaming Per esistere Che mi ha fatto Meno male Meno male Mi ha fatto pagare Smash Bros Con Apple Pay E sono Che come al solito È un miracolo Che io e Cristo Riusciamo a giocare Questa sera Però adesso Vediamo Se sarà un giocare O un sfottere Sì Allora Io Devo ringraziare 18 sub Hai visto che tu Le ringraziate Io sono stato muto Anzi Lo ringrazio Sei stato bravissimo Sei stato bravissimo Fai pure Buco per i tre mesi Mi ha giftato anche da me bro Eh vabbè Buco Buco è un patatone Buco è un patatone Solo che l'unica cosa Che riesce a dire È gaming O Schipidi pipidi Ma non ero serio bro Grazie comunque Forse non so Grazie mille Per le cinque sub Regalate Buco St buco Grazie 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 Un abbraccio Vieni su Discord E grazie anche per la tua sub Di tre mesi Wow Mamma mia St buco Ilizia Grazie mille anche a Lore Per i due mesi di Prime Grazie Lore Grazie mille anche a Pazzesco Dick Per il sesto mese di Prime E grazie mille anche a Che cosi hype Vabbè Grazie mille anche a Comic Per il quarto mesi di Prime Bro È la prima live dopo due settimane Eh oh Sei carico Sei carico Allora bro 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 Dobbiamo giocare a Smash Hai ragione Hai ragione Dobbiamo giocare a Smash Bros Come si fa a giocare a Smash insieme Non ho amici io Grazie Rick Beh anch'io Comunque grazie ancora Bugo E adesso Allora la prima cosa da fare Sì È aprire Aprire il gioco Spida Stanza Smash Spida rapida Ok un attimo Grazie per i cento bit Bugo Schibili bibili Pobro bo Esaltamente Allora crea stanza Grazie mille per i tuoi cento bit Ok Voi sentite l'audio Ma io non lo sento Perché sennò si sentono Solo amici Regole Sei tu che mi inviti? Sì sì Lo sto facendo io Ok grazie papà Allora praticamente Io di solito Faccio cinque vite Tempo allungato E poi C'è un solo oggetto Cioè la bolle dello smash Quindi c'è Allora Un attimo Sì Quindi è un po' particolare Io non sono così bravo a questo gioco Questo vuol dire che potresti essere La prima volta in cui tu vinci Contro di me Nome per la stanza Gaaaa No Gaaaa 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 No non la chiamo Gaaaa La chiamo Gamer Gamer Allora fai così Scenario a scelta Gli ultimi abbono Non lo so che vuol dire Ma ok S1000 Fed e Sam 1880 Per il quinto mese di Prime Visto Fagli lo schiena Bro Stavo Io stavolta Allora bro Io ho già pronto il video di Mario Kart Dove tu mi hai battuto Davvero Dove tu mi hai battuto Quindi oggi È la vera rivincita Tu sei così arrabbiato con me Io sono furioso Tu sei furioso Ma guarda Sei fortunato Perché io non so giocare a Smash Perfetto Vedremo Io a Smash Bros Ho bisogno di un attimo Di imparare a smashare Ehm Ok Ok Bro Ti puoi unire comunque Come cazzo mi unisco Non lo so Non lo so Non lo so Notizie Non sei furioso Sei caotico Vero Ma quello è Bruno Mischia Ti puoi fare Gamers Messaggio Online Ok connessione No no Eeeh Questo mi fa far vedere Switch Non far vedere i miei dati Come è necessaria un'iscrizione a Nintendo Switch Online Non hai Nintendo Switch Online Fatemi comprare Nintendo Switch Online Non ci posso credere Ragazzi ci metto un secondo Ci metto un secondo Ok Nintendo Nintendo Membership Apri le bet Apri le bet Apri pure le bet Ok Nintendyshop 12 mesi 15 euro Perfetto Apple Pay Apple Pay Apple Pay Ragazzi Scusate ragazzi Mi ero dimenticato che mi era scaduto L'avevo fatto di un mese Ok Nintendo Switch Online È un vero gamer Apple Pay Paga con Apple Pay Ragazzi Non chiudete la live Vi giuro che adesso facciamo le cose Ma stai calmo Ragazzi Non chiudete la live Oh no Due spettatori in meno Sono morto È un meme Devo giftargli la sub ora No lo so Ti prendo in giro bro Oh da quando sei diventato maggiorenne Sei diventato più Permaloso eh Sarà che posso votare No È vero puoi votare Esatto Ma che palle Esatto Grazie mille Barda Per il sesto mese di Prime E a Black Gino Per il quinto mese di Prime Benvenuti ragazzi Black Gino Black Gino sta per partire l'Ap Train Se volete farmi E reggere il pisello Oh stai calmo Black Gino Uno No non devo dire il codice All'altra voce Non devi dirlo all'altra voce No non è il caso Allora La carta E poi quello che c'è dietro Dai Mauro Faccio il tifo per te Dai ragazzi Dai Zio Pera proprio Forza forza Mauro Forza Mauro Ok Madonna se vinco godo Sto riscattando Sto riscattando tranquilli Ho già preso l'online Avanti Ok Registra Perfetto Perfetto Grazie mille Tra l'altro la cosa bella Che volevo fare Che se tu sei d'accordo È che dopo che facciamo La nostra La nostra 1v1 Dove spero di vincere Di sfidare Noi due Contro la chat È vero Ma sfidiamo solo i sub Quindi fate la sub Brutti stronzi Va bene Sono d'accordo Ok Senti Non ho streamato un cazzo Sto mese Eh ma ragazzi Con calma Grazie mille Barba Grazie mille Black Gino Grazie mille A Abe Per il primo mese di sub Grazie mille Gamer 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 No 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 La cosa non è solo per i sub Non è solo per i sub La bet Grazie mille Per il primissimo mese di Prime Grazie mille Grosso Sai chi è lui? No Lui è un utente Che gira sul mio disco Di raccontare E ti spiega come scopare Ah Grazie Grosso Ciao Ma in che stanza Sta a chiedere Per un amico Ogni tanto gira A caso Ah ok Ok Senti Cos'hai contro il mio nome? Mi fa ridere Black Gino Mi fa ridere Va bene Grazie Grosso Riocchi In save Black Gino E Barba Un abbraccio ragazzi Ma adesso È la quinta volta Che ringrazio Black Gino Lo so È perché È perché ho paura Che dopo Non li ho ringraziati abbastanza E poi fanno la sub Da qualcun altro Esatto Esatto Perché io ho bisogno Ho bisogno di pagare L'online L'ho comprata Adesso come faccio a unirmi Scusa Credo che tu possa fare Credo che se tu sei dentro smash Puoi fare direttamente Unisciti alla partita Credo Un attimo Forse Doviamo capire Link Ok Un attimo Io non posso invitarti Tipo Io ho aperto online Sono su online Non c'è tipo amici Perso Ah forse devi fare Stanza cosa Boh Mischia Come si gioca online Ragazzi Stanza smash Boh sì Ma come bo Scusa ma Sì 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 Quella ho fatto io Quella ho fatto io Ma con gli amici Si può fare uno B1 Anche non così Davvero Stanza degli amici Sedia Sono entrato Oh fantastico Perfetto Sono entrato Senti non lo so come si Non lo so come si fa Non l'ho mai fatto Perché io Non ho un po' Siedo Delle persone Con cui passare Del tempo libero Chiamasi Amici Oh Ti riscegli il personaggio Ti riscegli il personaggio In basso a destra Scusa come Eh Credo C'è un cambio a personaggio Non so se Ho fatto L'ho fatto L'ho fatto Perfetto Appena rientri Gamers No ma non c'è il mio personaggio Ragazzi Io non usavo questi Vabbè allora Scelgo lui Che giocavi tu di solito Eh giocavo Quello di Kingdom Hearts Non so come si chiama Ah Xerath No un altro Xoram Sora 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 No Donkey Kong Ragazzi Donkey Kong no Pronti a vedermi perdere chat Non ci credo Si è messo la scimmia Non posso Fare la battuta No non puoi fare la battuta Non puoi farla Illegale Ok Allora Come non ti ricordo i comandi Non c'ho questo Ma c'è tipo un mese Allora gamers Ragazzi facciamo ridere Guardate Io sto ridendo Perché sei una Sei una Sei una dannatissima scimmia Oh gamers Oh lag 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 Cristo santo Lag la parte della sede Madonna ma che è sta lag Ma serio Non so giocare Oh goodbye Ho già perso Ho già perso Non ci credo ho vinto No ho vinto Cioè questa Oh 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 Oh, oh, oh! Oh, niente! No, ehi! Ma scusa, come cazzo è stato fatto? Ma ti vuoi... Fra, ti prego! Vabbè, questa la usiamo come prova, la usiamo come prova. Non so che Smash da 16 anni, scusa. No, no, non fa niente. Nemmeno io, però, a quanto pare, ho un pochino più di... Esperienza. Senti, torniamo su Mario Kart. No! No, stavolta ti rompo il culo! No! Vabbè, ti ricordi, ti ricordi, no? Ti ricordi, ti ricordi? Devo un attimo a prendere... Sì, do anche un po' scherzo su Smash. Vabbè, mi consigliate, scusate. No, sballi! Come si prende quella roba? Si deve colpire, maledizione! Serio, ma sei serio, bro! Bro, che cazzo ti devo dire? Non so giocare a sto gioco! Come fai a non saper giocare a questo gioco? È un gioco Nintendo. Dove c'è Super Mario. Ma le altre cose. Aia! Mi fai male! Posso... Puoi continuare a rimanere in aria? Sto giocando a pallavolo con te! Ok, ragazzi, mi sento fortemente umiliato. Però, la prima volta... Oh, grazie, Leo, per le tue sabre regalate! Un abbraccio! Grazie, grazie, Leo! Maledizione! Oh, gamers! Ok. Ce lo puoi fare, stai tranquillo. Sei una scimmia. No, gaming! Grazie, Leo, per gli auguri! E anche per le sabre! Oh, il gaming! I did the gaming! I did the gaming! Grazie, Redino, per i 50 pizza! Ah, grazie per gli auguri! Cazzo, avrei dovuto fare la leva al mio compleanno! Sai quante donazioni! Mamma mia! Infatti non lo puoi ancora fare. No! Mi sono buttato di sotto! No! Allora, io farò... Ok, persiste un problema, hai vinto. Sì. Questo è il problema. Sì, persiste questo problema. Ragazzi, io devo prendere un operatore. Come si prende un operatore? Cos'è il tuo operatore? Cioè, il mio personaggio, io voglio Sora. Il mio caro Sora. E devi comprare il DLC. Non ho comprato nessun DLC la scorsa volta io. Ma certo che l'hai comprato! Ma perché il gioco era di un altro, bro! Mica si sblocca uno giocando, scusa. Ma quando mai? Ma ti pare che Nintendo ti fa sbloccare i personaggi giocando? No, aspetta, aspetta, volevo cambiare... Anch'io, come faccio? Così. Ok, perfetto. Provo a cambiare il personaggio, ragazzi. Sono troppo scarso, veramente. Paga! 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 Allora, ragazzi... Sono fatto in Sega. Gaming. Allora, io credo che... Proverò Sephiroth. Ma ragazzi, ma io ho due personaggi in croce. Ma dai! Allora, io provo lui. Provo Link, dai. Link... Magari Link sa giocare. Magari. Link, l'hai mai giocato? Dimmi di sì, ti prego. Ma come non l'hai mai giocato? Ma questa non è una sfida, mi stai prendendo in giro. Bro, senti, allora... Non gioco a questo gioco da un botto di tempo. Avrei dovuto allenarmi, lo so. Ma perché è quel personaggio tutto così bello? Mi fai paura. Gne, 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 gne. Perché ho pagato. Sei serio? Eh sì che ho pagato. Quindi è un beatwin, scusa, non ho capito. No! Sì, personaggi belli, sì. Ah. Aia! Ok, ragazzi, questa sarà una live dove sei da me in mia umilia. perché... Bro, ma come facciamo a giocare contro i sub se tu... Insomma... Ok, stai tirando solo quello. Oh, mi hai venato in faccia! Come ti permetti? Ragazzi, un attimo, devo... Come cazzo si salta? Ok. Non ci credo che hai detto come si salta. Ahia! Io ho fatto esplodere la faccia, proprio come succede a Napoli con il pensiero libero. Allora... Sto zitto, te lo giuro, sto zitto. Non dico più niente. Va bene, va bene. Ragazzi, il link fa schifo. Ah no, forse... Sai chi altro fa schifo? Ehm... I Napolet... No! Sto scherzando! Sto scherzando! Sto scherzando! È appena perso il 50% della tua fanbase, perché loro non sono molto autoironici, sai com'è? Non sono molto autoironici, dici? No. I napoletani? Ma sì, dai! Cioè, il fatto che io sia napoletano mi fa... Oh, ma io non sono napoletano. Cos'è questa roba viola che mi tiri? Mica sei Cristo e Sparple! Io sono Cristo e Sparple! Io sono il vero Cristo e Sparple! Che bella la mappa dove non si vede nemmeno il mio piede! Vorrei giocare ma non ho internet. What? Oh, oh, oh! No, dai, come non sei morto? Scusa, eh! I am the gamer. Joseph the gamer! No! C'è un gioco in cui gli batti, Smash. E io penso che mi batta anche un bimbo di 5 anni dall'ospedale. Ti devi stare in zio! Oh, come ti... Davvero hai detto un bambino dall'ospedale. Sono serio. Bro, bro, sei calmo? Dai, è una battuta, ragazzi! Guarda che adesso sei maggiorenne e ti possono denunciare con molta più facilità. Oh, cazzo. That's a problem. Era solo una battuta, dai. Era solo una battuta, era solo una... Mi hai battuto! L'ho killato! Fattemi la sub! What the fuck? Oh, gaming! Un attimo che adesso vi ringrazio a tutti voi. Ok. Tutti... Gaming. Live di compleanno, ragazzi. Cristo is purple la farà a breve. La farà a breve. Cioè, se non fai la live di compleanno, sei proprio un baboon. Che live di... Faccio il compleanno su Minecraft. Compleanno su Minecraft? Mi piace l'idea. L'ho schivato perché sono un gamer! L'ho schivato perché sono... Wow! Ehi, come torno lì? Come torno lì? Fucking gamer! Aia! Bro, ma tu stai chillando proprio. Non si... Non mi sto impegnando molto. Ok, abbiamo capito come... Come sarà l'andone se deve stare... I am the gaming... I am the gamer... In chat, ditemi come giocare. Per favore. Non funziona così, bro. Eh, non so, però... Devo barare. Parliamo su un abito. Usa... Usa un personaggio... Ditegli di usare un personaggio facile. Ora non so chi personaggio facile potrebbe utilizzare. Sora, Sora, Sora. Qual è il telefono della mamma di Cristo? Buco, lascia stare. Per favore. Dicetemi fa... No, ma chi conosce sto gioco? Ma chi conosce te, porca troia? Ragazzi, ma chi è che non conosce Smash, per piacere? Statevi calmi. Ma, guarda, questa gente... Bro, una volta dobbiamo giocare a Mario Party. Per favore. Cioè, io veramente... Ce l'hai? No, non ce l'ho, ma lo comprerei per te. Compralo. Ci giochiamo stasera. No, non funziona così. Gaming! Fucking gamers! Bro, non c'è gusto. Dobbiamo giocare contro la chat. Va bene, così la chat può godere nel killarmi. Molto facilmente. Sì, evidentemente, sì. Bayonetta. Guarda, ti faccio... Ti faccio provare l'ultima volta, quindi usa un personaggio che ti dice la chat. Chi mi consigliate di usare? Grazie mille, Raven, per il secondo visito di Prime a Gnabruele per il... Ah, mi sta laggando. Ah, ok, perfetto, sono tornato. Per il quindicesimo mese, grazie Gnabruele. Kirby? Kirby è facile? Non lo so. Ok. Io lo provo, ragazzi, perché mi fido di voi. Adesso, se perdo, vi uccido. Vero. Pit, bro e o P, what? Esatto. Chi? Non lo so, hanno detto Pit. Io non ho. Non ho Pit. Ragazzi, ho comprato il gioco due ore fa perché... Ma no, Pit ce l'hai sicuro. Pit? Oddio, ma di che non ce li hai sbloccati tutti i personaggi? Quanti personaggi hai? Bro. Allora. Bro, tu non hai sbloccato nessun personaggio. Nessuno, bro. È perché l'hai comprato ora. Sei, sette, otto, dieci. Dieci personaggi. No, ma adesso l'ho capito, Donald. Giustamente. Cosa? Cosa, cosa? Che non avevi la pool di personaggi. Beh, nemmeno quelli normali, capito? Cioè, scusami. Cioè, quelli, non lo so, quelli... Cioè, il Ganondorf ce l'avevi. Scusa, infatti, quando mi hai detto... I personaggi non si sbloccano, ma che cazzo? No, infatti me lo sono dimenticato perché sai, tipo Smash è di duemila anni fa. E io, per favore. Oh, è vero. Oh, è vero. Cattore che si spessi... Datti un pugno. Un colpo, signori. One fucking hit. Ragazzi, se gli ha ormai... Eh... Ha già vinto questa trasmissione. Cosa è questa? Trasmission. Oh, non mi spostare. Qua ci sono le cose. Ma perché si concentra tutto verso questo lato del gioco? Aia. Madonna. Ragazzi... Ma questo cos'è, Pikmin? Sono veramente umiliato da questo. Sono veramente... Oh, ma perché il Smash non è andato dove volevo? Aia! Aia! Prendilo, maledizione! Non lo riesco a prendere. Infatti... No. Oh, come l'ho detto. Aia. Aia. I fucking wrecked! Aia. I am a cow! Aia. Aia. Oh! Godoo! Fate la sub, ragazzi! Ogni volta che mi ammazzi, devevano fare la sub, la gente. Esatto. Una sub ogni volta che ammazzo, sai? Non funziona. Oh. Dai, fatti mangiare da quel coso. Fatti mangiare. No, no! I am the fucking Ganador. Ok. Allora, bro. La pausa è stata incredibile. Allora. Di a Cristo di usare A. Cos'è A? A di colpirmi. Intendete? Così, dove c'è un di strano, ragazzi? Non lo so, non lo so, bro. Mi dicono in chat che tu non sai giocare. Eh, hanno ragione. Hanno pienamente ragione. Boom! Sono un gamer di like. Anzi, in questo caso. Sto giocando a Rainbow Six Siege ultimamente, ragazzi. Per farvi capire la disperazione. Wow, what a gamer. No, faccio schifo, non mi toccio. È una regola di Rainbow Six Siege. Se gioca a quel gioco... Grazie Schatz Gamer per il Prime. Un abbraccio. Ma solo perché mi ha battuto... Oh, gamer. Esatto. Adesso si è fatta. Mi hai fatto uccidere questo. Non è so. Ah! Ah! Oh, no! Il bonkers! Oh, quello, quello. Lo voglio, lo voglio. Lo voglio. Lo voglio. No! Yes! Ma sono un gamer! Un'altra salva adesso! Cioè, mi hai dato un colpo talmente forte che ho preso la pensione. C'è su Cristo. Magari prendere la pensione. Madonna, bro. La pensione di invalidità, quella ce l'ho già. Levati! Levati! Lasciami in pace! Ti prego, smettila con questa mossa! È l'unica che sai usare! Mannaggia la miseria! Ve lo dicono tutti! Ti prego, lascia... E goodbye! Ragazzi, per onore di Cristo, se mi avete visto fare questa vittoria, è il momento di fare la sub al mio canale. Punto esclamativo Prime. E se siete su YouTube, mi raccomando, adesso lasciate un commento con scritto... I am the fucking gamer! Se siete nella live di Cristo, aprite la live di Sadia e fate... Fate la salva! Oh Dio... Cazzo, questa sarà un'iniezione pubblica anche su YouTube, quindi... No, infatti adesso dobbiamo assolutamente sfidare qualcun altro. Come facciamo a fare, tipo, una cosa con le altre persone? Allora, eh... Sì, allora, io avevo messo solo amici, quindi credo di dover rifare la stanza. Oddio, metto Zelda. Provo una donna. Ma mi ascolti! Dobbiamo rifare la stanza, perché... Dobbiamo rifare la stanza. Dobbiamo rifare la stanza. Crea stanza, la fai tu? Sì. Allora, ragazzi... Chat, venite tutti quanti su Super Smash Bros, però solo se avete fatto la sub, eh? Solo se avete fatto... Solo amici, pubblico... Noi vi fidiamo... Incontro a quattro giocatori, vite cinque, gli ultimi due escono... Noi ci fidiamo del fatto che voi entrate solo se avete fatto la sub, però... Solo se... La dovete aver fatta veramente, perché... Se no, il gioco non funziona. No, allora, il nome per la stanza è gaming. È un ottimo nome. Grazie. Anche a te piace il gaming? Sì, dipende dal quale gaming, però in generale sì, mi piace molto il gaming. Qual è il tuo gaming preferito? Valorant. Ragazzi, la live è terminata! Noi ci vediamo domani sera all'evento 45 su YouTube! Oh, Dio! Aspetta! Bom! Aspetta, devo mettere... No, ma io non posso vedere... Vabbè, posso andare a naso. Andare a naso. Ok. Si dice una parola! Maledizione! Allora, ho creato la stanza e adesso ti mando... Ti mando... Vi rendete conto che io l'ho messa senza cosa? Allora, aspetta. Dovrei finire una frase delle volte, lo sai. La password è questa, bro, eh? E ora mando la password alla chat. Ragazzi, tranquilli! La chat mi sta dicendo regala il mio posto a qualcuno senza sub. Ragazzi, non dovete avere la sub, stiamo scherzando. Come no? Io ho fatto la cosa con la password proprio per avere la sub. Ah, ok. No, qualcuno è entrato, what the fuck? Ok, va bene. Vi ho trollati, vi ho trollati. La password qual è? Oddio. La password è 2222, però dovete far entrare prima Cristo. Per piacere. Per favore. La password non è corretta, bro! Come non è corretta? La password non è corretta! Come non è corretta? Non è corretta! Ma serio? C'è una... 2222222 È con 4-2, 4-2. Ah. Io sono abbonato ma non ho Smash. Oh, ma che bello! Posso scegliervi, che bello! C'è ancora Cristo! Cristo con l'H! Oh mio Dio, è tornato! Vattene! Oddio, comunque ciao Carlo Boss. Oddio, sono entrato! Ok, sì. No, ma il bello è che io posso teoricamente... Allora, io mi posso spostare qui, no? Perché non posso... Perché non posso... Jane Lover, grazie mille per la hype chat! Sedi e Poldo stanno insieme e sono furri. Ma... No, allora, ragazzi. Io volevo Cristo prima. Io volevo Cristo prima. Io devo giocare perché sono in live. Ah, tra l'altro io voglio tipo... Mettermi conte. Come si fa, ragazzi? Non si può. Questo lo so. Come non si può? È random. Come è random? È random, eh. Ma io voglio stare in squadra con te, se no non ha senso. Perché cazzo vuoi stare in squadra con me che perdi? Ma che me ne importa? È per il meme. È però non... No, siamo tutti contro tutti. È quello eroe. Siamo tutti contro tutti, zio. E io sto per... Oh, oh. Sto per venire scompato malissimo. Allora, gaming, gaming, gaming. Ma ti sei messo Zelda? Ma sei una donna? What the fuck? Sì, volevo sentirmi un po' picchiato. Fra? Ma ti prego? Dai, è il mio mogismo, serio? Lo so, lo so, lo so, bro. Lo so, è quello che mi preoccupa. Ti senti un po' scandalizzato. Oh mio Dio, ma... Che cazzo non è stato quello? Oh, ma... Ma sto... Ma io ci sono... Ah, sto qua. Stavo quasi giocando me. Stavo. Aia, aia. Ma questi menano. Ma dai... Oh, goodbye le lepeciose. Aia! Ma sono di nuovo io? Ma dove sono? Ma perché non riesco a vedermi? Perché sono enorme? I am the fucking best. Onk. Sto cliccando testa di caso. Posso essere onesto? Puoi esserlo. Goodbye. No, mi ha ucciso! Maledizione! Io ho paura di eroe. Ah, è morto. Sono quello con me la vite. Sono morto io no. Bravo! What the fuck? Io sto usando la mia stessa abilità per uccidermi. Perfetto. Gaming, gaming, gaming. Se voglio sono morto. Non si capisce niente. Gaming. Gaming time. Mi hanno menato. Però sono grosso e cattivo. Fra. Fra, torna, fra, torna. Fra, torna. Non ti ho menato così forte. Oddio, lag, ti prego. Come non l'ho preso? Ehi, ti ho preso? Non l'ho preso il coso? Ma come non l'ho preso il coso? Non hai preso il coso? Ah, ce l'ho fatta. Smettila, Lele, smettila. Oh, merda. Oh, oh. Noi, noi stiamo qua a guardare. Noi stiamo qua a guardare. Ah, ok. Va bene, va bene. Tu muore, lui. Ok. Ah, ti ha ucciso. What the fuck? Ha menato tutti, Lele. Shut up. Per favore, fate crashare Lele Pecios. Come funziona? Attacco da dosso, ti prego. Attacco da dosso. Esatto, un attacco di dos, fate. Per favore. Ragazzi. Ma mi ha menato la palla in faccia. Ma che schifo. Chris è sempre stato una donna. Sì, ragazzi. Sai cosa? Scusa? Niente. Allora, gaming. Honk! Gaming eseguito? Oh, che combo. Abbiamo fatto la lilla. La lalla lilla. La lalla lalla. La lalla lalla. Ma perché la smettete di col... No. Io aspetto che si menino tra loro. Non penso proprio che smettano di farla. No, mi ha menato in faccia. Io faccio il tifo per la 6 di due gambe, ragazzi. Grazie, ti scongiuro, ti prego. Qualcuno dovrebbe. Dato che la shot non lo fa. Faccio il tifo per la 6 di due gambe. Perfetto. L'ho menato. Smettila di attaccarmi. Guarda che questa è una partita dove io devo vincere. Lele too strong. Col cavolo. È il momento di usare la mia arma segreta. Altre mosse oltre quelle due che sto utilizzando adesso. Io ne ho usato solo una per tutta la partita. E non la funziona. No, gaming. Io li lascio menare a loro due. E nel frattempo che loro si menano io scappo. Ok, gaming. Sto esercitando il gaming. Mi sa che lo stai esercitando ma non per molto. Invece sì, invece sì. Ho colpito, l'ho colpito. Ho colpito il gamer. Ma bro. Se vinci l'arrabbio. Come se vinci mi arrabbio? Shut up. Sto esercitando. Ah, gaming, 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 gaming. Vabbè, l'ho colpito ma non è bastato. No, mi ha addormentato. Brutto. Ma come ti ha addormentato? Sì, lavora sicuramente in un ospizio perché sa come addormentare. No, no, sto zitto. Sto zitto, andava malissimo il finale di questa battuta. Sono morto! Mi dispiace. Dai, vediamo come si concluderà questo incontro. Vediamo chi vincerà. Se fossi in questa battaglia avrei fatto il culo. E forse avresti dovuto fare la sub per poter entrare in questa partita e per poterci far fare il culo. Esatto, hai capito? Falla, subito. Chiedi a qualcuno che è entrato, qual è il codice? Perché non posso mettere i D a quattro cifre e nemmeno 2-2-2. Io ho messo 2-2. 2-2. Quattro cifre. Ma l'ID deve essere 5, a me non fa entrare. Ehi, grazie mille. Come non ho fatto entrare loro, scusatevi. Bentornato, bentornata. Che cazzo, non so se... Ok. Bro, ma io voglio... Ma io voglio... Voglio la... Voglio la... Voglio la... Voglio la... Voglio... 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 Ah, siamo fuori? What? Stiamo noi a guardare. Non ho capito. Non ha senso. No, 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 no. Fermi. Ragazzi, chiudo la live. Ciao. Come faccio la... Ragazzi, per favore, Raison, dato che hai già giocato, potresti far giocare me? Grazie. Raison! No. Come faccio a non urlare? Non lo so, bro. Ah, ok. Basta tornare in me. Ok, però... Raison, esci dalla santa partita, per favore. Cos'è? Ho tanto a me. Non ce la faccio, non ce la faccio. Davvero. Ok, ok, così. Ci sei? Sei dentro? Ah, no, no, no. Era l'altro Cristo. Era l'altro Cristo, esatto. Era quello finto. Eh, ragazzi, cosa facciamo? Eh, Raison dovrebbe... Perché non posso regolare questa dannetissima stanza? Eh, questo gioco... Ah, grazie, Raison, perfetto. Vai a entrare il credito! Fai a entrare Cristo! Grazie. Ok. No, fai a entrare l'altro pure Cristo. Vabbè, vabbè. Ormai. Va bene, vabbè. Oramai, a sto punto. Sennò ci stiamo qua altri 45 minuti. Io santo, però, eh. Puoi bannarli. Come si fa? Banno tutti. Mi spacco la faccia. Esatto. Ragazzi, io perdo subito. Quindi chiedo per favore ad Alex e Raison di non fare sesso con noi. Tra l'altro sei di nuovo... No, bro, calmati. Di nuovo? Venga, sei da... Da quello sei così, Famili e Friendly, che non si possono fare battute? No, no, no. Io mi... Faccio... Faccio... La scandalo, perché poi questo video va editato per quello... Ah, quindi devi essere... Ma io sono qua, maledizione. Ah, io non mi posso inimicare Twitch. Mi dà metà del mio stipendio, in qualche modo. Vabbè, sì, effettivamente hai ragione. Oh, mio Dio, smettetela di picchiarmi, per favore. Non è una partita... Siamo su Minecraft. Aia, le mie palle sono durissime. Ma come cazzo fa Raison? Ma... 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 Porca puttana. Eh, perché crede di essere il gamer. Lo è, infatti. Mi sono fatto menare. Sì, infatti, lo è. Lei devi smettere! Allora, Raison si crede di potermi fare il gaming. E ora gli faccio vedere io. Lo stai seguendo con successo, allora. Infatti... Infatti... Soria get on! Che sta facendo? Che sta facendo? Che sta facendo? Ah, ho commesso un attentato. Ma... Ho fatto qualcosa. Ma non ho fatto niente. Senti, rifai la stanza, ti prego. Va bene, ragazzi. Dopo li faccio... Oh, mio Dio! Cos'era quello? Mi ha fatto molto male. Sono morti entrambi, bro. Allora, focus Raison. Sì, però, Raison, io non so giocare. Puoi avere pietà. Scusa! Fra, però, però sei venuto in faccia a me! Scusami! Io ti odio! Io ti odio! Ma dai, ma finiscila! Oh, mi ha menato! Mi ha menato in faccia! Aia! Aia, ma se può correre? Ma quello là è troppo... Oh, mio Dio, l'ha fatto di nuovo? Che te... Si è fatto esplodere! Si è fatto esplodere! Un fottuto kamikaze! Raison è diventato un nemico comune. È un terrorista! Ti rendi conto? Oh, mio Dio, è un terrorista? Con lo terrorista... Sedia, prendi il mio fuoco. Oh, sventila di menato! Ti ho picchiato! Ti ho picchiato! Hai visto? Hai visto? Come scusa? Come mi ha fatto a colpire? Perdonami? Non lo so, Sedia. Io, onestamente, non me ne intendo. Non me ne intendo. È la rara risposta più patata che ho mai ricevuto. Oggettivamente, orca puttana! Oh, merda. Come diamine è possibile che io ti stavo att... Vabbè, ha fatto Power Rangers. Che minchia è questo gioco? Perché c'è un Power Rangers? Perché mi ha colpito? Perché Raison è così forte? Non lo so. Non ce la faccio. Non lo so, Sedia. Non ce la faccio. Non ce la faccio. Io sto tentando in tutti i modi. Ok, è morto. Voi mi state picchiando fra di voi, praticamente. La partita funziona così. Io contro Raison e voi due contro voi due. Voi due contro voi due? Sì, esatto. Bello, io sono mortissimo. Sono morto. Anche Sedia è mortissimo. Abbiamo perso le due! Abbiamo perso di nuovo! Abbiamo perso di nuovo! Stiamo guardando sta gente a giocare! Io non ce la faccio giocare. Ciao, Sedia. Ho visto oggi Takata. Che cosa? Takata. Che voleva scop... No, ti prego. Ti prego, non scrivere queste cose senza senso. Che menti ha fatto? Non te lo rileggo. Ha anche evidenziato il messaggio per dirmi questa cacata. Our Rangers! No, non mi interessa. Impegnarsi di più. Impegnarsi di più! Guarda, guarda, guarda come mi si menano. Io vedo solo onda energetica e Big Bang Attack. Guardali. Big Bang Attack? Sì, Dragon Ball, bro. Non l'hai mai visto? Sì. E non si chiama Big Bang Attack? Non me lo ricordo con molta precisione. A volte mi dimentico che ci passiamo tipo... Che ci passiamo tipo otto anni. Esatto! È vero. Bro, tu sei della gang. Cioè, non importa quanti anni hai. Ragazzi, ma io non mi dimenticherò mai la reaction di Edo e Sedia al Discord Got Talent quando abbiamo arricchato. No, che poi a un certo punto... No, comunque io ho sedici anni. Io cosa? Io ne avevo ancora sedici. Cristo santo. Seria, fai lì, dia, cinque cifre. Sì, va bene, va bene, lo faccio. Dopo questa partita così posso chicca. Mi hanno fatto... Mi sono servizi iniziato in Caps. Fai mettere a sedi che si possono unire più persone! Va bene. Va bene. Sta tutto bene, chat. Sta tutto bene. Mi volete muovere a vincere, maledizione! Oh, Raison... Oh, sta diventando una partita grossa, eh? Oh, oh, oh! 1v1? 1v1 di gaming? Oh, oh, oh! Ragazzi! Si è menato. Fate le bet! Si è menato. Guarda, guarda! E l'ha menato. Eh, vabbè, Raison. Eh, ha usato il gaming. Là non ci puoi fare niente. Non ci puoi fare niente. Raison, fatti una doccia. Sta a stare il nabbo. Sì, ti voglio ancora bene, ma devi... Devi scrivere attaccando il cervello alla spina. Quello sarebbe incredibile. So che... Oh, no, no. Basta, basta. Rifaccio la stanza. Ok. Come si esce? Come si esce? Ah, devo rifare. Ho fatto, 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 fatto. Perfetto. Vuoi eliminare la stanza? Sì. Povero Cristo, sempre ultimo. Ragazzi, che devo farci? Eh, oh. Allora, tutti i livelli. Pubblico. Incontro quattro giocatori. Incontro quattro giocatori. Questi vanno bene. Rotazione. Posso fare tipo che io decido tutto? Ma chi sei, scusa? Un mod, vorrei essere. Stai chiedendo la persona sbagliata. Io purtroppo non ne ho idea. Okusai Joe, grazie mille del Prime. No, non incontro quattro giocatori. Come non incontro? Io voglio incontro quattro giocatori. Ma come non incontri quattro giocatori? Okusai, un bacione, davvero. Puoi chiedere a Cristo se ci possiamo ancora sposare? Fra, senti, se Cristo non ti risponde, non è un... Devi farci la poss... Scusa, cos'è che non ho fatto? Non lo so. Non hai risposto a Tommy. Tommy, mi dispiace. Poi diciamo... Perché non posso essere il mod di questa stanza? Inserire il nome della stanza. Credo che andrò questa volta per gamer. Ah, ok. Molto originale, cazzo. Cazzo mille. Flavij89 perché... Flavij89. Io sono Flavij89. Allora, la password è... Due, 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 due... E basta. E due. Cinque numeri. Ok. Stasite amici. Mi sono messo a trovare. Aspetta, aspetta. Stavo creando. Ora c'è. Ripeti che cerca. Come ho messo solo amici, non è vero? Partecipa. Due, 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 due... Ho messo pubblica. Seria, posso entrare un secondo in vocale? Se mi devi dire la risposta al mio quesito, sì. Altrimenti non sei benvenuto. Se devi entrare e fare una barzelletta, no. Ascolta il mod adesso. Oh, Dio. Allora, vi potete unire. Ma come è solo amici? Ma non è vero? Entrate, entrate. In serio ho messo solo amici? Ho messo solo amici, va bene. Sono stupido, va bene? Sono stupido. Sono stupido. L'ho capito, ho capito. Sbagliato, ho sbagliato. Tutti L in chat alla sedia, anch'io. No, non sbaglio. Scemo. Allora, tutti i livelli voglio fare tipo scenario, versione Omega, versione le rovine casuale, versione le rovine Omega. Che bravi. Ok. Spiriti no, chat vocale no, musica stanza no. Continuate finché non se ne accorge, chat. Oh, chat. Io vi ammazzo. Io vi ammazzo, ve lo giuro, vi ammazzo. Numero max amici è per stanza. Zero. Non funziona. Numero max di giocatori a metto 8, così possono entrare più gente. Se si verificano errori di connessione mentre combatti in una stanza smash o assisti ad un incontro, prova a ridurre i nomi... Vabbè, sì, sì, sì. Shut up. Grazie mille, super schiacciatura, fratello. Allora, gamer era. Ok. Perfetto, gli ultimi due, benissimo. Ma Cristo che stava diventando un motore a due tempi. È normale, ragazzi. Ragazzi, sono sempre una caffettiera. Cioè non è una novità. Lui è la mia caffettiera, tra l'altro. Come sei romantico stasera. Posso entrare un attimo? Te l'ho detto, sì, se mi devi rispondere. Sì, 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 assolutamente sì. Venghi, venghi. Non ti posso... Non posso farlo io da solo. Invito, come si fa? Invita al server. Va bene. Io credo che andrò questa volta per qualche personaggio molto, molto più stupido e molto, molto più fastidioso, tipo King K. Rool. Non so che sia. Super Smash Brioche. Sì, sono proprio io. Ciao lupo, un bacione, bro. Ciao lupo. Lupo marcio. Un mio... Ci abbiamo giocato insieme, bro. Ah, sì, la... La Serdocraft. La Serdocraft. Tutto ok, bro. Stai zonando? Allora, ok. È una situazione un po' particolare. Io stanotte ho dormito due ore e mezza perché ho dovuto accompagnare Gennaro Ferrara. Poi sono stato dieci ore a Bologna a girare e sono qui. Bro, io apprezzo tantissimo il fatto che tu sei pazzo. Sono pazzo. E quindi io dopo questa live, ragazzi, mi acchiappo la melatonina e dormo. Gaming! Cristo, allora... Fatemi entrare. No, no, no. Perché... Allora... Bro, bro... Allora, io non capisco perché... Perché non si può togliere? No! Marta miseria! Questo gioco fa schifo. È molto meglio Mario Party. Perché devono inventare questo metodo? Perché? No, non giocherò insieme a te, solo con te. Mi dispiace. No, non funziona così. Punto... Punto... Io ho una trasmissione. Fra. 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 Buttati di sotto. Buttati di sotto. Non potrai giocare più. Davvero. Buttati di sotto. Dovete tutti in chat, Alex. Ciao, Lele. Ma... Dovessimo intervenire perché Sadie sta facendo sempre lo stesso errore. Quando ti la santa non li ha metto in contro a quattro giocatori, ma rissa. Così che puoi scegliere con chi stare. E fate un 2v2. Fantastico. Ok, ecco. Ciao. No, solo questo mi devi dire... Va bene. Grazie. Ma non c'è modo di moderare, Lele. Per favore, Alex, butta di grazie. Ok, così possiamo uscire. Ma perché poi non si può uscire dal gioco? E adesso? No, devo uscire. Alex si ucciderà l'ultima volta. Perché credo... Super Smash sedia, che nel caso smasho... Va bene, perfetto. Super Smash sedia. Nel senso che smasho in maniera super. No, da Drake. Ciao, bello. Allora, adesso rifaccio la stanza. Smasho in maniera super. Dio santo. Allora. Ora rifaccio... Perché poi non puoi... Perché poi non puoi fermare la cosa? Io questa cosa non la capirò mai. Non si può, ma se vuoi posso provare a moderare io facendo la lobby. Eh, no, vabbè, ma sarebbe... Ci affidiamo agli schiavi? Ma no, è che... Ok, aspetta. Rifare la stanza. Ok. Sì, tu ti ricordi come ha detto... Devi mettere modalità rissa. 1v1, mischia squadre. C'è solo quello, quindi penso, immagino sia quello. I vincitori escono. Dovrei mettere questa. Dato che noi perdiamo sempre. Metterò questa così. Allora, con password. Impostazioni. 8 giocatori. Versione delle rovine. Ok, perfetto. Va bene così. Va benissimo. I vincitori escono. A posto. Dai, yeah. Eh, gamer. Perfetto. Password 2222. 252. 525. 525. Perfetto. 2552. Volevo dire smashotame. The trick, ti prego. Ti prego. Per favore. Allora, io un attimo. Intanto che entrano la gente, io mi muto un secondo. 252. 252. 252. 252. Stai confondendo la chat. È solo 52. È 5252. Crystal, shut up. Allora, io e Cristo siamo già qui. Perfetto. Intanto aspettiamo anche gli altri. E poi finalmente potremo stare in squadra per combattere le forze del male. Gamer. Come al solito dopo un'ora di live accadono le cose che vogliamo fare. Hai notato? Sì, è sempre così. È una cosa da gamer, secondo me. Gamer. Allora, stanno scegliendo i personaggi. Madonna, che cosa brutta è il fatto che io non possa scegliere. Cioè, tipo, prendo uno ed entra, tipo... È vero, sono iniziate le voci, chat, lo so, scusate. Sono iniziate le voci? Esatto. Che sta succedendo? È niente, perché... È 255252. 5252. Sì, sono d'accordo. 5-2. Sono stanco, bro. Sono stanco! Anch'io! Allora. Oh, ma siamo grossi contro piccoli. Ah, no, sei piccolo. Scusa. Io sono piccolo, ma grosso. Io sono enorme! Allora, bro. Si fa il gaming. Oh, ma io devo uccidere quello lì, che è il più alto tipo di Kirby, tipo. Sei il cattivo di Kirby. Oh, ho fatto il gaming! Più o meno. L'hai fatto? Oh, ho fatto pure il gaming! Uccidili, uccidili. Mena, menala, 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 menala. Oh, mio Dio, che cosa... Goodbye. È morto! Non è morto. Oh, oh, oh! Oh, mio Dio, ma come fa a menare così forte se è così piccola? Dio santo! Aia, aia. Ok, questa non me l'aspettavo, ma va bene. Ah, forse abbiamo sottovalutato il fatto che... Io già odio questa persona a morte, proprio. Come ho fatto? Come ho fatto? No! Ah, perfetto, ho perso. Mi ha menato. Ci aveva la cosa, la... Ti prego, lasciami in pace, bro. Oh, bravo, bravo, colpi... Fuck! Giochiamo contro degli scarsi, finalmente? No, non è vero, perché quello è fortissimo. Final Mix è fortissimo. Ah, infatti io sono morto. Oh, invece... Niente. Farò la cosa più fastidiosa del mondo. Adesso. Cioè, esistere. Ma God fucking damn it! Aia, aia. Ma porca di una miseria! Ma loro usano anche gli altri tasti, oltre le solite due mosse che usiamo noi. Eh, io non so usare gli altri tasti. Ma porca di una miseria! Oh, non ce la posso fare. Ma quello è un drago gigante che sta dietro là! Ma infatti che ci fa sto drago? Ah, è morto finalmente! Mannaggia! Guarda, non ho mai pregato la morte di un mio iscritto. Fino ad ora. Nini. Final Mix, però porca puttana! Oh mio Dio, ci ha disintegrato entrambi, sul serio? Mamma mia. Sul serio, no! Mi sta usando la mia mossa contro di me! Aia, aia, aia! Il sac! Sta usando il sac! Broglie una vita. Anch'io. E non vorrei nemmeno quella. Lasciami in pace, Final Mix! Lasciami in pace, maledizione! Ok. Meniamo, meniamo. Ma il fatto è che sono forti! Sono forti, maledizione! Ci sono altri tasti? No, io sapevo di no. Cioè, invece, guarda... Ma infatti io non ne sapevo, io staventamento. No, sei morto. Maledizione. Adesso ne ho due contro di me. What the fuck? Mi dispiace, mi dispiace veramente con tutto. Io non mi ricordo che faceva la sua mossa, sinceramente. Come non detto. Non è importante. Non so chi... Non so chi... Perché non li succhio? Perché non li succhio? Li risucchio. Non... Non era proprio quello che volevo dire. Vabbè, vabbè, se vuoi provare. È morto? Non è morto. Perché non morite mai? Valedizione. Ed ero monopolizzato tutti i chat. Mamma... Si è buttato, si è buttato... Lasciatemi in pace! Lasciatemi in pace, stupidi! Ci sarà qualcuno che usa Link Cartoon? Come avevo detto... Facciamo schifo. Facciamo schifo. Facciamo schifo. We fucking suck. Sì, ma ti rendi conto che mi ha ammazzato un cazzarola di cagnolino? Un furry! No, un furry no. Allora, io ho il campione personaggione. Cambione personaggione. Esattamente. Ok, ho capito. Devo prendermi un personaggio più grasso. Togli con amore dal titolo, ragazzi. Perché c'è scritto nel titolo? Il mio titolo è 1v1 Cristo vs Sedia con amore su Super Smash Bros. La battaglia dei gamer veri. La battaglia dei gamer veri è vera, però. Eh, sì. Mi riprendo Zelda, ho giocato un po' meglio. Io credo che riprenderò Ganondorf, perché ho giocato meglio di Ganondorf. Oh, levatevi dall'incontro, per piacere, grazie. Non posso, non sono moderatore. Levarsi dall'incontro, per favore, grazie. Uno si levi dall'inc... Per piacere. Ah, ho capito. Devo mettermi tipo qua. Ok, ok, perfetto. Bravi, bravi, bravi. Ho capito adesso, scusatemi. Perfetto. Grazie, vi ringrazio. Gentilissimo. Mamma mia, non hai idea. Che sistema di merda, porco. Espelli quelli che hanno già giocato. Come si fa ad espellere? Ah, l'ho scoperto. Ho capito, ho capito. Bro, non avremo più questo problema. Eh, praticamente vado in alto a destra e lì espello. Come siamo contro? Siamo contro? Tre, due, due. A me dispiace per quello con cui sono in squadra. Lagga. 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 Ma come annullato? Perché annullato? Annullato perché? Non lo so. Ragazzi, noi non stiamo a giocare. Perché ci hanno fatto il favore di metterci in un'altra squadra. E a volte va così. Cosa? Cosa? Cosa va così? Come va così, ragazzi? No, final mix no. No, final mix no. Aspetta, aspetta, aspetta. Che è che sta facendo così, ve lo giuro? Ragazzi, io ho un problema. Fatemi rientrare, per favore. Grazie, grazie. Fatemi rientrare. Fatemi rientrare. Impossibile iniziare l'incontro. Persiste un problema. Non va un cazzo. Persiste questo problema. Ora va bene. Però siamo contro. Siamo insieme! Let's go! Siamo contro, stiamo insieme! Siamo insieme! Gaming! Ma il sesso? Da Drake! Siamo su Smash, quindi Smash Bros. No? Noi siamo Bros, quindi... E quindi we smash. Allora, gamer. Dobbiamo focussare, secondo me, Alex, perché mi sta sulle scatole. Poi Sora, tipo, perché è piccolo. Quindi lo dobbiamo picchiare. Perché è minorenne. Chiamo i minorenne. Minorenni, perché... Anche io volevo usare Sora, perché ero minorenne fino all'altro ieri. E invece adesso sei un gamer, quindi devi usare le donne. Ma come? Ragazzi, possiamo fare una live su Minecraft? Dovremmo? Oh, va bene. Ok. Lascia stare. Ma che cazzo succede? Ma che cazzo succede? Sto rifacendo la stanza. Ma fa schifo sta cosa! Ma fa schifo! Perché funziona così questo gioco, maledizione? Un server Minecraft, ho stato da un tredicenne, funziona. Cue dei server Nintendo. La password è sempre quella. Cinque volte due. Capito? È cinque due. Siete, sono io che non mi funziona il tasto pronto. E sei un baboon. È un baboon, bro, baboon. 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 Io amo queste musiche. Le ho usate in tutti i miei video. Io sono Gemma del Sud. Pronti? Ma perché siamo contro? No! Ah, come si cambia? Come si cambia? Come ha fatto Final Mix a fare il giro delle squadre? No, non sono qui! Final Mix. Qualcuno. Esca fuori. Per piacere. Grazie. Boh, chiccali. Come si fa? Oh, bene. Hai capito? No, però io voglio stare... Come funziona? R, L, B. Tutti i tasti sto premendo. X. X. No, funziona. X, bro. Vedi? Siamo nella stessa squadra adesso. Ah, ok. Voi due avete dei problemi? Trovatevi uno psicologo. Vi spacco la taccia. Shut up. No, Final Mix. Ciao, fu uffi. Ah, no, or code. Allora. Per sistema problema. Cioè? Lo so. Guarda, già mi sta menando. Ahia, ahia, Minecraft. Ahia, Minecraft. Oh, l'ho menato. I have picchiato the Minecraft. Oh, 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 oh. Forse abbiamo una possibilità, bro. Ah, ah. No. Con me no. Madonna, ma che botte mi dà? Ma che donna? Dio santo. Ma può essere che un cazzarola di cane mi mena così tanto? Dio santo. Vabbè, però Steve pure sta perdendo le vite, dai. Sì, però. Credo. No, no, ho scambiato il mio personaggio. Ti scongiuro, bro. Però ti prego, impegnati tipo un po'. Bro, ci sto provando. Io sono morto. Anch'io sono morto. Tutti e tre nel Final Mix. E infatti muore, maledizione schiappa, Dio santo. Non è morto. Andiamo a uccidere San Gemma. Ah, San Gemma, ma porca troia. Ma perché stai menando le cose? Dio santo. Ma mi stavo far picchiare da Steve di Minecraft. Ma sono tipo il cattivo di una serie, di un'intera serie di videogiochi. Ragazzi, non ci credo. Grazie, grazie per avermi leggermente cariato. Chi io? In questo momento, sì. Io sto facendo il gamer, però non so se funzionerà, vero? Oh, Cristo di Dio. Ma lasciami in pace, Dio santo! Ma sei morto di nuovo! Ma non è possibile, Fran! Non so come ho fatto! Non so come ho fatto! Mi ha menato. Ragazzi, io non ho parole. Io non ho vero... Mi ha menato di nuovo, mi sto facendo menare la Steve di Minecraft, è un furri! Bro, facciamo cagare. Cioè, letteralmente... Ma ti rendi conto che io a Final Mix gli ho fatto la mia mossa più forte! E non è morto! No, adesso non è morto. Non è morto! Non è ancora morto! Ma quant'altra finta ti devo togliere! Ma l'edizione! E' Cristo Gaming, grazie! Oh, il vaffaculo! Non aprirà Cristo Gaming, tranquillo. Non aprirà Cristo Gaming. Dio mio! Guarda! Per lo meno, non su Smash Bros. Cristo di Gaming! E niente. Pecchiato da un Furry, è Steve di Minecraft! Topolino è un Furry, è vero? Stupidi, 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 stupidi! Tra, ma tu non sai giocare, Steve. Dovresti saperlo giocare, dato che sei tipo un Minecraft player, no? Non ce l'ho. Ok. Non ce l'ho come personaggio. Allora, teoricamente, loro, adesso che hanno vinto, se ne vanno a quel paese e possono far entrare altre due persone che giocheranno al posto. Magari che faranno un po' più schifo di loro. Magari non Ryzen. Non Ryzen. Lo spero. Ok. Ok. Si può fare? No, 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 fra, 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 devi... Fai rosso, fai rosso. No! Io voglio essere blu. Ok? Wario, togliti le cose! Wario, ti prego, premix, per piacere. Ma mi ha tolto dalla... Io non capisco perché il gioco deve essere così stupido. Come faccio? Devono togliersi dalla squadra, per favore, per piacere, vi scongiuro. Ma perché? Perché c'è questo sistema? Perché ogni volta che faccio un live su un Nintendo è un parto. Eh, dai, qualcuno vada via così lascia lo spazio a Cristo. Ma che cazzo è successo? Devi rimetterti sulla pedana. Sulla pedana, ti rendi conto? Ragazzi, potete essere leggermente più ordinati. Allora, giochiamo tutti. Tanto stiamo po'... No, no, no! Qualcuno esca, per piacere. Mi stavo cambiando personaggio, quindi non ero sulla pedana. Non fa niente. Qualcuno esca, ti ringrazio. Vi prego, vi scongiuro. Per favore. Oh! Ragazzi. Oh, ok! L'abbiamo fatta. Mamma mia! Allora. Siamo rossi. Guarda, guarda, siamo rossi. Tutti rossi siamo. Ok, perfetto. Grazie a Dio. Mamma mia! Che parto! Un bambino usciva più facilmente di sto game. Ma un'altra volta contro Horizon, che usa sempre lo stesso personaggio. Ma io vi rovino la faccia. Io di Smash Bros. Sarebbe al senso a usare solo le canzoni nei video, non nel gioco. Idem. No, tu sei giocabile. Io non ho proprio. Io so i tasti, è l'unica cosa che so. Io me li sono dimenticati. Perché lag così tanto? Non lo so, però sto giocando lo stesso. Ok. Ok, gaming. Aia. Come fa Ganondorf a essere il personaggio peggiore se può fare queste menate? Nonostante tutto, bro. Nonostante tutto. Stiamo eseguendo la... Stiamo eseguendo il gaming patetico, secondo me. Sto facendo proprio cagare. Cioè, io mi sto vergognando, posso essere onestito. Mamma mia. Eh, gaming, gaming, gaming. Perché quella mossa non l'ha presa? Prima ambilazione dopo tantissimi gaming fatti bene. Oh mio Dio. Oh, what the fuck was that? Grazie Ryzen, grazie. Ryzen, Ryzen Gaming, Ryzen, Ryzen. Mi ha menato. Dopo rifai la stanza. Ma ragazzi, io mi sono rotto le palle di rifare le stanza. Ma vi prego, vi scongiuro. Oh, grazie mille il GTX, David. Per il tuo primissimo mese di Prime. Grazie mille. Yeah, 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 yeah. E benvenuto. Oh, get the fuck out of here. Chi l'aveva presa? Io. No, l'ho presa. Get the fucking Shrek. Ma davvero devi mettere un uragano Catarina? Levalo, levalo, levalo. Ahia. Ok, fantastico. Ok, meraviglioso. Ti prego, bro. Scusa, ma allora banna chi è giocato? Infatti è quello che farò da ora. Come si fa a bannare? Eh, c'è una... Cosa? C'è una cosa. Ok, grazie. Ehi. Lo farò, lo farò, ragazzi. Lo farò. Aia, aia, aia. Aia. Ho menato, ho menato. Risto Gaming non penso che abbia... Risto Gamer! Mi ha menato. Mi ha fatto esplodere! Oh, bro, però ho ancora tre vite, eh. Eh, secondo me ci stanno andando piano, ecco perché. Effettivamente. Perché non mi usa la mossa? Vabbè. Sì, sì, stanno facendo più piano. Siete, ripari mai una live su Smash? Boh, può essere. Ah, se questi sono i presupposti forse no. Presupposti intendo... Io che muoio in continuazione. E farla con me non è divertente. Allora, devo dirti che le mie aspettative erano che tu fossi leggermente più forte. Ma tipo al mio livello, capito? Che io non sono forte. Lo so, però io sono proprio una seghina. È proprio diverso. Cioè, sono proprio una seghina su questo gioco. Suka! Tanto non muoiono, bro. Non muoiono, eh. Ma perché non muoiono? Maledizione! Cazzarola, morite! Dio santo! Io ci sto provando. Menali. Menali forte. Menali come se fossero... È un posto di uno. Oh, 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 oh. Lag, 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 lag. Di merda. Aia. E meno male che io sono resistente. Perché sennò avrei perso le stesse vite che hai perso tu. Bro, c'hanno tre vite. Gli abbiamo tolto due vite. Sono esplosi. Ok. Lasciami in pace. Lasciami in pace, Dio santo. Come fai? Come fai se io sto usando lo scudo? Come diamine fai? Il persiste è un problema. Non ce la posso fare. Siamo mortissimi, Zio. Vive! Mi ha fatto esplodere! Mi ha fatto esplodere! Ok, ban. Ban, subito ban. Questa trasmissione mi ha costata 60 euro su Instant Gaming. Stupidi! 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 Oh, mamma. Allora, innanzitutto... Devo proprio rimettermi a giocare sto gioco per bene, una volta preparata. Allora, senti. L'appuntamento sarà... Adesso noi facciamo le ultime partite, ma poi diventerà... Diventerà? Scusami, aspetta. Mi ha scorreggiato il cervello. Allora, escludi il giocatore. Scegli il giocatore di escludere. Allora, innanzitutto Final Mix. No, ma... Senti. Io sto facendo un'operazione. Perché... L'operazione della sedia. Ah, ok, ok. Aspetta. Fermi, fermi. Non fate nulla. Elenco il giocatore. Escludi il giocatore. Final Mix. Sì. Ryzen... No, no, no. Gemma no. Ryzen che ha già giocato. Il Gamers ha già giocato. Perfetto. Ora c'è solo gente che non ha giocato. Gemma non mi ricordo se ha giocato o meno. Ok, vediamo se... No, Gemma ha giocato, sì. Ok, ok. Poi nel caso tolgo. Io mi metto un altro personaggio in questo caso. Tipo... Kazuya, perché è fico. E rientro. Via. Siamo nella stessa squadra? No. No. Vai nella verde. Perfetto. Gaming? Io ci sono. Perfetto. Ok, chat. Ma questo è come giocare in hardcore. No, ragazzi, io sto facendo proprio cagare. È diverso. Oddio, wow. Secondo me hardcore è più facile. È più... È più facile. Sì, perché magari per qualche minchiata riesco a fare una kill. Menalo, menalo. Ah, oddio. Gemma era con... Ma Cristo santo, sul serio? Io ho perso due vite a caso. Va bene, fantastico. Bellissimo questo gioco. Davvero, incredibile. Ragazzi, non so giocare veramente. Mamma mia, non faccio poco schifo. Mi fa coglione di aver partecipato a questa trasmissione. Serio, ci stiamo tocchendo noi. Può succedere, bro. Può succedere anche i migliori. Sì, hai ragione. Però... Noi non siamo migliori. Ma dai, ma sul serio? Ma mi ha investito con la macchina. Ora dobbiamo fare il CID. Ok. Ce la possiamo fare, bro. Ce la possiamo fare. Non penso proprio. Non ha funzionato il mio laser. È come se fossi un po' ubriaco su questo gioco, te lo giuro. È un po' il sentimento. Io un po' lo sono, per quanto sono. Beh, sì, effettivamente. Oh, no! Ok. Ok. Ok, ok, ok. Minecraft. Minecraft Steve. Minecraft Steve. Madonna, ma per chi? Aia. Non ce l'ho... Non ci può... Non può essere sta cosa. Non può essere! Questa dannotissima cosa! Ti prego. Sì, 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 sì. Menali, menali Tanto dovranno scendere prima o poi Beccati questo, il laser dagli occhi Fra, non cade Perché sei caduto? Perché non dovevi fare nulla Fra, non dovevi fare nulla Mi fa nulla Mi ha ucciso Mai Ti ha ucciso di nuovo Basta che non mi lasci da solo bro Eh, mi dispiace Ma non posso permetterti questa cosa Ma dai, ma sul serio Mi sa che ti lascio solo io Oddio Sai cosa succede se mi lasci da solo Che cosa è stato? Mi ha messo sotto con la macchina Ah Uh, che botta che gli ho dato Fra, sei morto di nuovo Non ci credo Secondo me con loro avevamo qualche quasi 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 qualche possibilità Wario 1 a 5 vite non è vero Wario, 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 Wario Cosa? Oh mio Dio, sul serio? Sì Schiatta, Cristo Santo Non ci posso credere, vabbè Dobbiamo fare pratica su questo gioco per oggi Ragazzi non mi inviate richieste d'amicizia Perché non le accetto Ma questa cosa è imbarazzante Siamo imbarazzati Soprattutto io Allora io adesso mi metterò un personaggio Veramente, veramente Ma veramente Ma veramente semplice Vero Ehm Facciamo così Aspetta Tipo Che schifo sei Di a shut up Buonasera Bandit Da quant'è che non ti vedo in live Allora Fammi cambiare personaggio Ehm Chat Sentite Scegli un personaggio Tra questi personaggi Quale mi dite di usare? Dobbiamo vincere nel menù una bro Eh Non è Se no non faccio Così faccio il finale del video E abbiamo vinto Eh guarda che è importante Fox Metterò un personaggio Spammone Pikachu Tutto prende le donne Ok scusa Fede Pikachu Dimmi quando ti metti Ma io ho buttato fuori Raison Dimmi quando ci sei eh Provo Pikachu ragazzi Ci sono Ok mettiti sulla pedana al volo Che qualcuno si tolga Che qualcuno si tolga No perché state facendo L'incontro Come facciamo E che sono stupidi Devi fare tipo la B B esci B esci B esci B esci B esci Stupidoni Dovete uscire Ok Ok Non ancora Non ancora Non ancora Ok perfetto Vai Siamo in squadra Eh sì Ma in realtà Non so neanche se Per quanto farò live su Twitch Anche dopo questa Che senso Mi Mi Voglio fare più video Finalmente Finalmente Cristo Ha fatto una scelta Economicamente giusta Grazie Soprattutto anche Anche numericamente Perché su Twitch Non è che No vabbè Dopo che te ne vai Dopo un mese su Twitch Già è tanto se Boh Gaming Gaming Allora non me la sto cavando Questa 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 piattaforma Che le vs Devi stremare ogni giorno Quanto attore Vero? È vero Gne Jump with me Grab coins with me Oh yeah Aia Mio Dio Infatti fa schifo Questa connessione Non ce la faccio Non ce la posso Bro Porca troia È un powerpoint È ingiocabile È un powerpoint È un powerpoint Ti prego Ti prego I server Ma perché I server Fanno questo Dio santo Allora ragazzi Ho un'idea Ragazzi da oggi Sono live Sui vostri Server Minecraft Ho un'idea bro Se state ascoltando In chat Chi sta giocando Con noi Deve Stanno tutti dormendo Deve morire In modo tale Che noi facciamo Il video Noi facciamo Il video Esatto Potete morire Così finiamo Lo nostro video E finirete per sempre Madonna ma Cristo È forte su Mario Kart È forte pure su Smash Intendo Cristo Con la H Esatto Perché io sono Forte solo su Mario Kart Va bene Adesso farò Lo spam Infame Quello che sto facendo io E muori Mannaggia Alla miseria Guarda là Cristo No 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 Ehi 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 Bro è un power point Mamma mia Levalo Levalo Mario Mario Super Mario Super Mario Wow gaming Gli ho fatto tipo Una mossa Ma sei bravissimo Grazie bro Ti ringrazio È stato fortissimo Complimenti Io non lo so fare L'ha ucciso? Non l'ho ucciso Sì Uno sì Oh 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 Sul serio? Mi ha menato? Mi sono fatto menare Sul Minecraft? Prendila 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 Non l'ho presa Mannaggia Il paparghinghi Sono morto Volevo dire Volevo dire Una cosa bannabile Bannabile dirlo Boh Oh non ha fatto nulla Questa sua cosa Perché è stupido Volevo dire Bro Bro Ehi Ragazzi Allora Non siete voi che laggate Chat È il gioco Che è proprio così Gaming 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 Ah sei morto di nuovo Mi vuoi bene lo stesso? Mi voglio bene lo stesso Grazie Però non voglio bene A Cristo con l'H Mi ha menato Cristo Ok Per favore Morite Per favore Per favore Tanto comunque ragazzi Questo game Non lo potete vincere voi Perché io devo fare il video Esatto Adesso Io ho una vita Tutti dovete morire adesso Sì Tommaso E Cristo Dovete suicidarvi Non l'ha fatto Non l'ha fatto Forza forza Allora Allora Toglietevi tutte le vite Rimanete con una vita E poi noi vi colpiamo E facciamo il video Grazie Per favore Per favore Per favore È la cosa più stupida del mondo Per favore Ok 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 Per favore Perché lagga così tanto questo gioco Mannaggia la miseria Mamma mia Ok Glielo vuoi dare tu il colpo di grazie Visto che sei lo youtuber del video Sì guarda Aspetta Mo si mettono tutti e due vicini Dobbiamo darglielo insieme Vieni giù Vieni giù Ok 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 loro E loro fanno finta Tipo capito Che noi li abbiamo colpiti Fortissimo E muoiono Guarda guarda Vieni 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 da me Carica lo smash Aspetta Non si carica così Ma come non si carica così però No Come non funziona No Ehi cosa fa Cristo No no Ehi Fra Oh l'ho ucciso L'ho ucciso Faccio Prendi Oh mio dio cosa Ha menato il ma Devo uccidere Cristo Non possiamo Dobbiamo ucciderlo insieme What the fuck Fra No si è ribellato Si è ribellato Non siamo più No 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 Fra Siamo in due Fra Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare C'ha 19 di C'ha 19 di danni Però Madonna Io questa partita è inguardabile Veramente ingiocabile sta cosa Cioè praticamente ogni volta Che mi appicino alla cosa Ma lui ci fa Lui ci fa Secondo me Hai capito Ah ma io sono morto Non mi sono accorto che ero io Oh ma io ho una vita What the fuck Serio? Ok No 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 Non mi mena Ehi 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 Bisogna fare Bisogna fare l'ultimo attacco bro L'ultimo attacco L'ultimo attacco Io credo in te Vieni qua Vieni qua Vieni qua Non mi spingere Bro sto qua Sto qua non ci sta ascoltando Vuole vincere perché è un figlio di puttana Quanto non esce nel video Oh invece Aspetta aspetta Di nuovo Di nuovo Fermati Ok Lo farò No perché un bambino Dai mannaggia Forza gaming Gaming Perché lagga così tanto Mannaggia Non ce la faccio Non ce la faccio Non ce la faccio Dei Prendi il coso Non lo sta facendo Si è buttato Oh mio dio grazie Gaming Oh mio dio grazie W in chat Sta provando a schivare La schivare Mamma mia Non ci credo Finalmente abbiamo vinto su smash Incredibile No ma siamo migliorati tantissimo No infatti è bastata una live E sai è bastata una live Per poter fare questa cosa Davvero Incredibile Cioè guarda qua Mamma mia Guarda che gamer Tu Pikachu Io Palla Viola Con la Maschera Bene gamer Basta Non ce la faccio Ragazzi Mamma mia Mamma mia Ma che cosa terribile Allora ragazzi Io vi giuro che Nel caso dovessi rifare smash Probabilmente sarà molto meglio Di questa sera Va bene Esatto Stasera è stato un meme Letteralmente È stata completamente un meme Perché noi non sappiamo giocare L'online fa cacare E ultimo ma non meno importante Gaming Io faccio schifo Ti ho battuto su smash Hai ragione Ti ho battuto su smash Ti ho battuto Su minecraft Che su mario par Su kakarp La prossima sfida Sarà su mario party Perché si può Si può fare 1v1 Su mario party Certo Ma mario party È un gioco di fortuna È letteralmente Gioco d'azzardo Versione nintendo Va bene Allora facciamo un po' di gioco d'azzardo So